Solo RS ti permette di rinnovare e risparmiare, perché in un minuto puoi rinnovare il colore originale della plastica sviadita dell'arredamento da giardino e una sola applicazione ti dura tutta una stagione. Spendere poco non equivale a risparmiare. Spendere bene è risparmiare. Con mezzo litro di RS che costa 40 euro, rinnovi il colore originale per tutta una stagione con una sola applicazione di circa 12 metri quadrati di superficie piana di plastica, con 40 euro. Quanti tavoli, sedie e arredamento da giardino nuovi compri e che dopo un'estate al sole saranno comunque rovinati? E in più ti revi il lavoraccio e la seccatura di dover portare al CERD tutto l'arredamento vecchio da smaltire e di perdere tempo ad andare a comprare quello nuovo, che comunque, dopo un'estate al sole, sarebbe sviadito e rovinato, ma spendendo molto di più. RS è l'unico vero rinnova plastica, brevetto Black Traction, che ti dimostra la più lunga durata d'effetto rispetto a qualsiasi prodotto o sistema concorrente, superando prove di resistenza a detergenti aggressivi e solventi che nessun altro prodotto concorrente è in grado di dimostrarti di poter superare. Solo con RS rinnovare equivale a risparmiare. Perché anche verniciare la plastica è una pessima idea, perché, oltre a essere costoso, in breve tempo la vernice si stacca, perché la plastica di sedia e tavoli si deforma molto a seguito dell'utilizzo e dopo pochissimo tempo la vernice si stacca. Quest'anno cosa vuoi fare? Vuoi spendere bene o farti spennare? RS è un rinnovatore multifunzione italiano e brevettato dalle caratteristiche uniche che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Per il rapporto tra resa, resistenza, durata d'effetto e costo rispetto alla sostituzione e durata d'effetto rispetto a qualsiasi altro prodotto o sistema concorrente. Cosa stai aspettando? Vuoi continuare ad applicare oli quasi tutti i giorni che rimangono unti senza risolvere il tuo problema? O rinnovare veramente con RS Black Traction? E allora, cosa stai aspettando? Solo con il rinnovatore multifunzione RS Black Traction puoi rinnovare e mantenere il colore originale della plastica della resina di una sedia o di un tavolo in un minuto per tutta una stagione con una sola applicazione e risparmiare. Puoi ordinare RS su sito Black Traction e riceverlo comodamente presso la tua attività, ma non lo trovi su piattaforme come Amazon. Non adatto a rinnovare plastica e materiali macchiati e rovinati dalla precedente applicazione di prodotti corrosivi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!